Un giorno, diciamo che il palazzo quest'anno ha spovero un tristassi o un tridente, a me c'è anche l'idea di ci lanciare, hai raccontato una delle tre punte, giustamente, il nuovo progetto che ricompete l'ex-enote, ma abbiamo anche altre due realtà dalle quali ci aspettiamo molto, che sono la presenza di Artex con la mostra Materia e il virtuosismo curata da Jean e poi il progetto La Grande Bellezza di Staratelli. Allora, Materia e il virtuosismo è una nuova cerca che Jean, che penso che tutti conosciate come...